Noi di Actimel siamo convinti che ogni persona nel suo piccolo ha un ruolo per rendere la comunità più forte. Siamo felici come B Corp di sostenere le nostre comunità attraverso l'accompagnamento di chi ne ha più bisogno alla campagna vaccinale della terza dose insieme ad Hauser. Durante questo mese l'iniziativa più forte insieme di Actimel e Hauser vive in una confezione speciale in cui invitiamo i nostri consumatori a sostenere l'iniziativa per l'accompagnamento alla campagna vaccinale di chi ne ha più bisogno.